Domenica 23 febbraio in programma la venticinquesima giornata del girone B della seconda divisione di Lega Pro. Un solo anticipo, sabato alle 14.30, tutto coglio Castelligone, gara delicatissima per i neroverdi che sono precipitati nella zona rossa della classifica. Pericolo Vigor Lamezia per la Casertana che deve difendere tre punti di vantaggio sul Teramo. La gara del Pinto inizierà alle 15, come la partita tra Arzanese e Sorrento, spostata dal Valle Fuoco allo Ianiello di Frattamaggiore. Tutte le altre partite sono invece in programma alle 14.30. Derby abruzzese per il Teramo, seconda forza del campionato, che fa visita al Chieti. Gara per nulla scontata con i neroverdi reduci da un gran periodo di forma, coinciso con 13 punti conquistati in 5 partite. In assoluta parità gli otto precedenti, con tre vittorie per parte e due pareggi. Partita dal sapore particolare per il Cosenza che contro la Versa festeggia 100 anni di storia, sfoggiando anche una maglia personalizzata d'Oc. I calabresi devono vincere per difendere tre punti di vantaggio sul Foggia, che rischia al Mazzella contro l'Ischia Isola Verde. Risalita fino al sesto posto, ma a corrente alternata in casa. Tra le squadre più in forma c'è anche il Messina, 10 punti in quattro partite, che fa visita al Poggi Bonzi con i favori del pronostico. I giallorossi, infatti, non stanno attraversando un grandissimo momento, ma in casa sono imbattuti da quattro partite dove hanno collezionato due vittori e due pareggi. Discorso diverso per il Melfi, precipitato nella zona play-out dopo aver assaporato l'ebbrezza dei piani alti, che ospita l'Aprilia, finora disastrosa in trasferta, con appena tre punti all'attivo in dodici partite. Per la zona bassa della classifica da seguire anche la sfida tra Gavorrano e Martina, un confronto che suona molto come ultima spiaggia per entrambe.